ok ok registrazione partita vediamo che combiniamo di bello roger via ma si guarda i punti ai raggio strano però avevo fatto il partito facco finito le munizioni e si è preso la vita donna io sto inseguendo uno che a zero è facca presa vita amante che deve raccogliere i minerali e buttarli si devi raccogliere si sei tu il raccoglitore clicca e raccogli le cose che sono a terra è una nuova modalità che non avevo visto mi sa si devi raccogliere fare facile aspetto perché io vado verso un altro raccoglitore che è sappiamo questo dark allora dov'è il prossimo cazzo occhio di che ne è venuto dietro è un tipo che hai vendi ok chiaro vendi che sta saltando lifeformer go ma com'è che c'è solo uno nemico oh ah no mi stavo sbagliando aia no questo l'ho tritato però troppo tardi chi è il raccoglitore assisti il collezionista eeeh grumorg no come si chiama grumorg si ma sta modalità non è che mi faccia esaltare più divertente è spezzare gli avversari con il martello salta picchia bam chiaramente io sparo a nick ho capito tutto ho capito tutto del gioco cazzo madonna mazza vende 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 ahahah guarda come salta 3 contro 1 chi è il raccoglitore il raccoglitore sono io ecco che te l'ho detto ok sono il collettore è il momento dei touchdown facili via ah ragazzo ce l'hanno con me merda ce lhanno con me cazzo cacchio te l'ho mandato a foco entrambi ricarica ricarica nooo eh eh vende cercavi di fregare no cacchio zvecca chiaramente nel momento di esaltazione massima vieni colpito alle spalle da una cannonata ma che squadra scarsa vai dark dark è il collezionista ah me lo dici solo ora ah che cazzo vecca non take ok occhio ai vende alle costole più altra gente vende cosa sei mortale cazzo stai da lì per quanto per quanto abbiamo perso abbiamo vinto hai vinto due ricontro di noi anche io ho perso guarda vende come si salta ma c'ho l'arma d'elettricità che fa un po' schifo io me ne son fatta una e anche la mia e anche la mia fa abbastanza scacarecciare come on via allora chi abbiamo qui vabbè nick perfetto break list solo uno nemico si fanno apposto che si non muoiono all'inizio ok però mai solo uno perchè sta un anno dopo per non morire all'inizio ah fanno il trucchettino da pro chiaramente io sono andato dalla parte sbagliata porca miseria ah bansaii ho il martello quello si è fermato a farsi ammazzare che fa guarda questo che non l'ho visto c'è uno con un'arma assoluta ok uno patto cavolo questo non l'avevo minimamente visto primi punti bella ok io son già addosso al martello lur preso ancora come on oh ma questo che arma c'ha cazzo è troppo forte le palle di fuga rimbalza pfff queste armi alternative ok che arrivo ma no ci sono pezzi non lo so c'è un'arma terribile io vedo rotolare pezzi di corpi deflagrati allora vediamo punto laggiù ah ne ho visto uno ne ho visto uno ok son quasi arrivato io touchdown go ok qui non conosciamo avversari ormai l'ho fatto di nuovo fuori poverino vada come soffre sto ammazzando a tutti qua dark proteggimi che vedi sono dietro vai 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 cavolo sono tutti qua dietro tutti qua dove cacchio vado io ma vedi dove sei sono arrivato sono arrivato il tuo team ha capturato il hammer vai da lì si non mi sembra particolarmente è un cecchino particolarmente pro questi sono il cecchino il nemico ci ha rubato il martello dov'è? è qua dietro è qua dietro il tizio dov'è? non lo so ma è sparito sotto sotto si adesso prendo di nuovo il martello questo è andato si lo vedo lo vedo lo vedo vendi scappa vendi scappa ok martello fatto ricarica ricarica vado a fuoco vado quanto ti manca vendi ad arrivare? poco ho dovuto retta la coperta cazzo perfetto ripresa ti sono dietro nike col martello eh pure io mi sto andando a curare ok come si mette giù il martello? cioè proprio lo lasci? non si può fare attenzione sta tornando uno ti difendo ti difendo ok non ho morto non ho morto touch down ottimo non ho morto ma ho... le ho rallentati un pochino si bastava ok oh la vittorretta la sta ammazzando sta ammazzando tutti che l'amerone la torretta ero messa a cantare il martello che si non possono prenderlo ucciso da ganja 62 sto tornando aiuto dai cosi fuck 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 ok bella questa vittoria veloce e rapida in dolore l'abbiamo vinta troppo veloce questa anche troppo veloce yeah però i festeggiamenti sono d'obbligo il grande puffo a sinistra sono io ok io ultima a 5-2 vedi 6-0 vedi sta hackerando no no livello 7 quanto giocate ragazzi siamo io e tu stranos ok adesso si vede un pochino chi gioca meglio nicchia davanti io prendo nicchia chiaramente ovviamente mi è uscito mi è uscito eh nicchia è fatta quella lì ti è uscito nicchia ha bruciato aspetta qualcuno l'ho fatto fuori si nicchia ha bruciato the king duma the king duma l'hai fatto oh merda ah si tu mi hanno staccato le gambe mi hanno ammazzato ho un brazzo bruciato cazzo allora buono nicchia subito si vendica vediamo vendi commesso suicidio cosa? hai commesso suicidio? si per colpa di lui ah quello la nicchia crede di essere invisibile ma ecco ti becca di questo no ho mancato cazzo la donna che scontro via via qualcuno me l'ha fregato ah vendi io veramente ero lì che era in due contro uno eh questa è un po' squallida non si sta vediamo plutonio mio che arma è questa fa una cascata di pioggia elettrica bellissimo ah vendi vendi prendi il plutonio sono morto niente l'ha già preso ora via occhio vendi ah no non sei vendi ok diciamo così vendi invece c'era un altro chi è che mi sta uccidendo bruciandomi? io chiaramente mi è ridotto una specie di carbone camminante non so capito più niente allora qua hanno armi pesante molto pesante infatti mi ha buttato fuori ma ha crashato o proprio non lo so probabilmente ti ha crashato comunque non durano tanto queste partite tac go zini ma vai giocare con gli altri due sotto sopra eh due sopra ancora sopra di canale erano tre contro uno ok giustamente io ti sparavo da lontano tu te la sei presa comoda e mi arrostivi da lontano perché canale adesso i problemi che stanno giocando a rodato ci siamo in rodato stavo qua non è è facilissimo cazzo cazzo non ho tutto non avevo nessuno delle due braccia no così sto prendendo calci in faccia belli 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 stiamo facendo schifo ti ho preso in pieno Nick cazzo eh qui qui c'è lo scontro però eh non erano assoluti un macello veramente un macello bandy ne approfitta sempre io faccio il lavoro sporco indebolisco Nick e poi arriva lui lo falci allora tac no occhio occhio si però sto fuoco da un po' sulle palle bruciare continuamente taglia negata che ti hanno preso la cosa di quello che ho ucciso maledetti che morite no no cazzo tra Gangio e Nick vanno arrostito in due no la letta cremata aspetta Nick che adesso arrivo eh vediamo death snatch bam ecco io mi sparo da solo che cazzo nei piedi chi è questo salta picchio dai no no altro braccio che parte ah fuck ma fottuto tutto e ne qua un attimo eccoli qui questo va no cecchino uno e uno due merda 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 via di qui via di qui dai go chi è che mi ha shottato la testa bello cecchino attenzione si è quello esatto mi ha shottato in movimento che non sa neanche lui come ha fatto che cosa è molto sciolto molto sciolto si questo è molto molto bravo what the fuck molto menta forse mi metto la mia capsula bella quest'arma il score è ora morto il score è postato spattastranus per arrivo arrivo eh cacchio oh ma quello comunque quello lì è allucinante sta uccidendo è la sesta la sesta persona che uccide in testa con un colpo si è vero è troppo forte 7 ne ha ammazzati davvero forte non so neanche dove sta camperando perché sicuramente camper oh mi ho ucciso eh sto maledetto fuoco uno di vita eh ma questo non l'ho ucciso poco fa cecchino di merito vabbè 7 contro 1 dai via via aspetta con un posto cecchino spara che è un piacere sì ho visto sparare due colpi vicino a me sono morto sono morto sotto una bioggia elettrica no 2 capture remains dai qui c'è un'asfaltata poi in realtà neanche tanto però non voglio essere io l'ultima kill sto scappando come un verme allora venni non morire t'ho visto t'ho visto t'ho visto dai premete la mia capsula presa 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 noni ti avevo proprio nel mirino non ho fatto niente non ho ucciso nessuno no no ma ti avevo io nel mirino cavolo anche questo è andato qui ho fatto schifo guarda 10 a 8 mamma mia io ho fatto uno schifo che ho proprio regalato kill a tutti l'ho fatto il natale babbo natale delle kill orche miseria 3 11 no così mi ammazzo tutti ok shadi like via vediamo qua come va dai che uno l'ho ammazzo è beccato ok un'andata ce n'è ancora uno si lo vedo lo vedo sta scappando io ho dato il loro martello si anch'io ha preso un medikit ha preso un medikit roger ah lo vedo lo vedo se l'hai dietro è quasi andato no il cecchino bella nick bella 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 no l'ho ucciso ah l'ho ucciso io l'ho ucciso io ero dietro di te ok ora vediamo se trovo un medikit o c'è un altro dietro di me aspettami lol shit funny occhio che ci han preso no non è vero martello non ce l'han preso oh stavo sfarando oh cacchio mi han preso con un oh cos'era quel colpo infatti pare che io stavo tentando di rubare il mio martello ma che cazzo via c'è che ne hai ah vendi vendi ok ti sto dando una mano nooo che sciottone ma come cazzo ah è morto lo stesso no questo mi ha fatto con il cecchino a 200 km no go 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 ce l'ha davanti il cecchino si vedi carma che ha il cecchino dà un parecchio fastidio eh ha anche le briscola da lontano a due colpi ti ammazza qualsiasi parte del corpo ti prende allora ucciso il cecchino bella ha rubato il martello è il nostro si sta scappando vai vendi prendi il martello loro e poi li intercettiamo è pieno sta avvenendo verso di voi credo no merda merda no 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 ok questo l'ho sfaldato cazzo no no raga no sono morto sono morto a due centimetri dal martello che sfiga l'avevo preso prendi il martello nick nick è ancora lì sono tre tre sono tre sono troppi come on come on come on sto arrivando su sto arrivando su poi sparò bendy chiaramente porco in giro dai ok abbiamo preso il martello cazzo questo c'è la torretta automatica attenti c'è uno dietro c'è la torretta automatica capitano coso roger no vediamo un altro di cazzo cazzo capitan coso è troppo forte capitan come si chiama capitan morgan morgan si ma che armi sta usando morgan ah ci ha messo la torretta si cazzo ah cazzo su shadow like è qui per ora qui capitano morgan oh ah sto pezzo di merda merda muore che cazzo ok colpo la testa col raggio tesla wow allora via avanti questi cazzo qua accanto al martello al nostro ok io sono da loro preso loro ok preso adesso go 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 guarda come me la svigno come un vero ladro via cazzo beh però l'hai fatto secco capitano morgan e due con un colpo bam occhio che hanno il nostro martello fatto preso il martello doppia uccisione e consegna bella se ne hai anche 3 secondi te le ritrovi già qua si e infatti sono già qui guarda stanno arrivando da destra esatto oh ho fatto fuori shadow like c'è ancora in giro io mi sparo da solo ma sarà possibile capitan morgan cazzo no 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 eeeh questo è bravo è bravo è bravo faccia c'hanno già la torretta qua attenzione vicino camon camon dai sto punto puntiamo sul coso sul sul martellone e non so prendere tutti quanti se ne che ci sono dietro e prendi il martello che c'è di grado un cazzo ok ricordi con un colpo sciotti tutti e quindi sei sono dietro al nostro martello si devi portarlo alla base nostra bella bellissima ottimo avanti avanti attenzione sta tornando alla base il nemico ma il martello devo portare dove ci attendi no? esatto là dietro datemi copertura roger mi sono mi sto coprendo veloce bellissima ottimo aspetta ah no perché c'è ancora il martello in giro si va ucciso l'avversario che ha il martello raga se no non possiamo depositarlo so che io sto per morire no cazzo avevo bisogno io della vita devo prendere la vita assolutamente quindi è appunto che non l'abbiamo preso esatto finché non uccidiamo l'altro martello e lo riprendiamo c'è il nostro che hanno rubato l'oro non si può fare niente stanno arrivando al sinistro ok mi è preso la vita per fare un fail no non posso usare più il martello corri 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 sono morto cazzo si dovete dobbiamo in qualche modo recuperare il martello avversario sennò qua raga non si mette giù uh bella la vedi sono senza vita cazzo ma ho fatto eeeh brutta no fa un punto loro fa un punto loro però almeno si è sbloccata la situazione ok attacchiamo come gli squali cazzo dai ah c'ha già fregato ho il loro martello il loro martello si prendiamo il nostro vendi che è qua in giro se vi taglio la strada sto qua eccolo che arriva aiuto stavolta te lo prendiamo il martello vai l'hanno rubato di nuovo no preso io lo prendo io sono la loro base ok vai e attento che ce n'è uno si dobbiamo shottare però il martello questo attenzione perché è forte il cecchino ok l'ho fatto ottimo no 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 cazzo sono un po' nella merda molto merda via 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 l'ho fatto fuori il tizio grandissimo dai che scappa ci sono ci sono ce li ho tutti dietro ce li ho tutti dietro ok fatta bellissimo questa copertura manuale ma pare che ho shottato quello che va al martello quello è il meglio allora occhio dietro che ce l'abbiamo qui puoi morire ecco grande ursul bene 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 andiamo avanti di qua nick dove sei pietro di te ok merda occhio qui davanti c'è morgan qua dai che muore eccolo qui via 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 scappiamo ok questo è andato ho una gamba che mi piscia sangue vai 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 attento che è davanti a te attento davanti a te cazzo vieni qui ok fatta il strike per 5 vai 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 attendi ce l'ha fregato chiaramente il martello giusto cazzo mi ha ammazzato capitano ma vedere capitano mi ha ammazzato si io sono in base col martello solito oh merda ah capita morgan qui da noi si mi ha ammazzato ok fatto 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 attento ce n'è un altro cazzo lo vedo fatelo voi quello ah lo vedo c'è anche il cecchino ho bisogno di quella vita io no maledetto no cazzo non posso neanche usare il martello ma che cazzo vai nick vai nick cazzo mi sta killando ah lo vedo dov'è lo vedo lo vedo è ancora lì io sto nascosto adesso sta cercando di shottarmi sta tornando quello che è il nostro martello si sta cercando di di sbloccare la situazione attenzione stranus oh merda mi è passato davanti mi è passato davanti si bella 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 grandissimi grandissimi ok touchdown bellissima ben recupero ben recupero questa è stata una buona una buona partita cacchio divertente un po' di festeggiamento non fa male eccolo qui va buono dai qui ho evitato di fare anche la media la media pessima va buono va bene va bene io quindi concludo il video vai perfetto saluto a tutti ciao a tutti ragazzi ciao Nick ciao Nick grazie ciao